Entra anche tu nel mondo di Futura Games. Street Fighter 2 Micro Pro Soccer Xenon 2 Another World sono in edicola ad un prezzo imbattibile. Futura Games. Ogni mese in edicola i migliori videogames del mondo a sole 19.900 lire. In ogni scatola troverai la rivista che svela i segreti del gioco. Futura Games. L'impossibile è in edicola.